Sì, buongiorno. Nuovo ancora una volta insieme. Ormai è diventata una lotta interna al gruppo. Non possiamo farne a meno. Ripetiamo. Questa è in gara 3. Happy Vision. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! La rifacciamo, torniamo indietro. La voglio rifare, no, no, la voglio rifare. Sandro, parliamo di centimetri, eh? Parliamo di fotofinish perché... Centimetri? Io vi ho guardato. Pare partenza anticipata, pare! No, noi la torniamo a fare, che c'è anche... Oh, la cazzo, no? Nella densità. Ma non è giusto. No, c'è la volera di chi! Aspetta che c'è Mauro morto. Dobbiamo assolutamente riunirci con la giuria per valutare. Faremo un... un split screen dei due. Quella c'è che non va? Qua c'è... oh, sono partita a racchetta. Quella c'è che non va? Sono partita a racchetta, ragazzi. No, stavolta si parta a racchetta, dopo i giudici... Ma dopo comunque vediamo... Comunque tengo a precisare... Eh? A cosa? A precisare. Allora andiamo, quindi? Quattro a uno? Tre a uno. Tre a uno? Io vorrei solo dire una cosa. Io ammetto la mia sconfitta, ma c'è da dire una cosa... È un ladro. No, ma sa perdere, Sandro. Ciao, eh. Ciao.